Con Matteo Brusa a commentare una bella vittoria della Tierra Azzurra Novara, una partita giocata con grande attenzione da parte vostra, avete gestito il risultato con assoluta tranquillità. Sì, l'abbiamo preparato in settimana perché sapevamo che dopo una partita così intensa come quella di sabato scorso, così importante, potevamo arrivare oggi un po' scarichi di testa. E invece ci siamo comportati nel modo giusto, siamo entrati con la testa giusta, abbiamo messo subito la partita sui binari giusti e alla fine l'abbiamo portata a casa. Siete in testa della classifica, potrebbe essere questa la svolta della stagione? Sì, siamo sempre stati lì attaccati, è un batti e ribatti, quest'anno il campionato è molto equilibrato, quindi ogni partita è una finale sia per noi sia per le altre 3-4 squadre che sono tutte attaccate a noi. Quindi dobbiamo affrontare tutte le partite con questa mentalità perché il campionato è ancora lungo, ci sono ancora tante partite e anche tutti gli scontri diretti, quindi dobbiamo solo continuare così che il campionato c'è ancora tanta strada da fare. La prossima partita è quella di Modena, sarà una partita sicuramente complicata. Infatti cominciamo subito la sabato prossimo con il Modena che sicuramente è una squadra che si sta ritrovando perché non sta più perdendo, ha cominciato male e quindi probabilmente la classifica che oggi non è quella del suo livello. Noi lo sappiamo, sappiamo che andare poi a giocare a Modena su quella pista è tanto difficile, quindi sarà sicuramente una partita durissima. Grazie e complimenti. Grazie.